Siamo volati a Londra per una prima prova di Shadow of the Tomb Raider, il terzo capitolo del nuovo corso dedicato a Lara Croft, intrapreso da Square Enix ormai più di 5 anni fa. Vi raccontiamo tutto quello che abbiamo scoperto in questa nuova video anteprima. In Shadow of the Tomb Raider, Lara torna in America per esplorare piramidi e tombe nell'area di influenza Maya. La narrazione del nuovo episodio entra subito nel vivo e segue una Miss Croft più preoccupata e stanca del solito. Sparita l'inesperienza e la fragilità viste soprattutto nel primo capitolo, la protagonista appare però anche più matura, con una buona esperienza sulle spalle che la spinge a grandi falcate verso i suoi obiettivi. Non ci sono più questioni morali, l'archeologa è ora un vero e proprio soldato, una macchina da guerra decisa a raggiungere l'obiettivo che non si preoccupa di uccidere i suoi nemici. A livello di meccaniche, il sistema di combattimento con le armi da fuoco è rimasto immutato, con una veloce ruota per le armi che permette di accedere anche all'immancabile arco, indispensabile per effettuare uccisioni silenziose. Lara può attivare a piacere una speciale modalità di visione che le permette di sapere in anticipo quali guardie sono nel cono visivo dei commilitoni e quali pronte per essere sopraffatte, ricorrendo magari ad azioni di distrazione come il lancio di bottiglie di vetro o pedinamenti. L'ozione di fuoco libero è sempre disponibile, ma il livello di difficoltà appare più alto del solito anche a causa di un sistema di mira non ancora molto preciso. Ci sono da perfezionare anche alcune animazioni, ma l'ossatura fondamentale è già in fase avanzata. Tornano anche le tombe, con enigmi legati all'uso di contrappesi, corde, ingranaggi e sporgenze che permettono di effettuare salti sempre più spettacolari. Una delle maggiori novità di questo Tomb Raider è però la possibilità di nuotare per lunghi tratti sommersi andando ad esplorare le profondità marine alla ricerca di nuovi artefatti mentre si lotta contro pericolose creature. Il nuovo Tomb Raider non sembra quindi portare grandi mutamenti all'esperienza complessiva del gioco, ma punta soprattutto a portare a maturazione il processo di crescita della signorina Croft. Non vediamo quindi l'ora che arrivi il 14 settembre per vedere come tutto questo verrà declinato all'interno del nuovo gioco. Il gatto Il gatto Agosto